Cosa ne pensi del generale Vannacci? Io faccio sempre domandine del generale Vannacci. Ti dico la verità, cosa penso del generale Vannacci? Io penso che lui, gli ho fatto anche i complimenti, ecco cosa penso, gli ho fatti i complimenti, attenzione, all'uomo, non alle cose che dice, perché le cose che dice sono tutte, io non ho letto il libro, però gli ho voluto fare i complimenti perché ho detto sei stato molto in gamba a buttarti in una direzione in cui nessuno aveva coraggio di fare, perché oggi c'è tanta paura di parlare, nessuno in tv va e parla e dice, io non sono delle idee di Vannacci, non sono uno né di sinistra né di destra perché non ho mai votato, ma non è la scusa, non ho mai votato quindi non lo sono. Oggi mi dà particolarmente fastidio questo utilizzo della libertà da parte della sinistra, ad esempio, e ti ripeto, questo utilizzo di liberiamo, liberiamo, in realtà in maniera terribilmente, è come se si utilizza la parola della libertà vestendo sempre con un abito politico tutto quello che si debba fare. Questo mi dà totalmente fastidio perché, torniamo al discorso di prima, si sta richiudendo il mondo con la scusa di liberarlo, è terribile. Vannacci gli ho fatto i complimenti su Instagram, ma ha anche risposto, mi ha invitato una delle sue, pur non essendo io, ti dico la verità, tutto quello che dice sui gay non lo condivido neanche un po', ma perché è semplicemente per un motivo, perché la felicità di ognuno di noi non è né Vannacci né il contrario di Vannacci che viene a dirmi cosa mi piace, cosa mi rende felice nella mia vita, sessualmente o non. Quindi questa è la base di vita che ho io, però mi è piaciuto il fatto che lui esca fuori e parli e ci mette la faccia, questo sì, e grazie al suo modo di fare ha preso pure 500.000 voti e sta dove sta, quindi chapeau. Questo è quello che ho da dirti su Vannacci. Ottimo!